Chieti e Alfonsine non si giocherà. L'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio sul sito della Serie D, nel quale si fa presente che la partita programmata per domenica allo stadio Angelini di Chieti, ore 14.30, non si svolgerà in quanto il giudice delegato al fallimento della SSD Chieti Calcio ha formalizzato la rinuncia alla disputa dell'incontro. Come se non bastasse, sempre oggi il Comitato Interregionale ha preso atto della sentenza di ieri del Tribunale Federale Nazionale che ha inflitto alla SSD Chieti Calcio un punto di penalizzazione in classifica e l'inibizione per sei mesi al presidente e rappresentante legale protempore Aldo Savastano. Pronunciamento relativo al deferimento dello scorso 26 ottobre operato dalla Procura Federale per il mancato pagamento dell'attaccante Antonio Broso che rivendicava una somma pari a 4.200 euro, importo che la società non ha integralmente liquidato nei termini previsti lo scorso aprile. Per quel che può contare, il Chieti scende a quota 0 punti in classifica che diventerà meno 1 la prossima settimana per la sconfitta a tavolino con penalizzazione che sarà irrogata per la mancata disputa della partita. Non essendo stata ritirata la squadra, i risultati del girone d'andata saranno preservati. Il campionato poi riprenderà l'8 gennaio e nel frattempo la curatela fallimentare che fa capo alla commercialista Maria Nicola Corvacchiola e il giudice delegato verificheranno se esistono i presupposti per cui il Chieti possa continuare a giocare oppure no andando incontro, in quest'ultimo caso, alla esclusione dal campionato con radiazione dalla federazione. Per continuare a giocare e mantenere in vita il titolo sportivo però, il Chieti avrà bisogno di un sostegno economico esterno che, d'accordo con la curatela, permetta alla squadra di affrontare il minimo di spese di gestione corrente per arrivare a fine campionato. Altrimenti questa nefasta stagione potrà considerarsi al capolinea.